Jacopo Zrenga dopo la bella vittoria di Ciliano, domenica il big match con il Bellinzago. Sì, abbiamo fatto una vittoria importantissima su un campo difficile contro una squadra che darà filo da torcere sicuramente a tutti. Abbiamo fatto 11 vittorie di fila, quindi adesso siamo pronti per questo scontro al vertice. Siamo sereni, consapevoli di andare a affrontare una grande squadra. Non abbiamo paura, abbiamo solo rispetto. E niente, vediamo un po' poi domenica alle 5 cosa esce fuori. Senti, il fatto di avere due risultati di su tre anche in caso di sconfitta rimarreste sempre primi è sicuramente un vantaggio. Sì, ma noi non pensiamo... Quando vieni da 14 risultati utili consecutivi o 13, compresa la Coppa, e vieni da 11 vittorie di fila non pensi a perdere la partita. Sicuramente se dovesse finire pari non morirebbe nessuno, come se dovessimo perdere, anche perché poi abbiamo altre, mi sembra, 20 partite a disposizione nel campionato. Però sicuramente noi non andiamo lì per cercare il pareggio e tutto, andiamo lì per giocarcela come andiamo su tutti i campi. Una vittoria da parte vostra sicuramente non chiuderebbe il campionato, ma a 6 punti comincia ad essere un distacco importante. Sì, però con altre 20 partite, cioè altre 60 punti a disposizione, anche se dovessimo andare a più 6, il campionato è ancora apertissimo, bastano due scivoloni per poi riaprire, poi il giorno di ritorno è sempre un altro campionato rispetto a giorno d'andata, quindi noi affrontiamo le partite una alla volta, poi dopo vediamo un po' come andrà a finire il campionato al 25 aprile. Grazie. 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 Grazie.